Da agosto ad oggi sono stati 15 pazienti covid che necessitavano di terapia intensiva ricoverati in altri ospedali, per lo più Enna, Ribere e Catania. Alcuni di loro perché necessitavano di cure che il Sant'Elia non può dare, altri trasferiti a Gela perché, come dice il direttore generale dell'azienda ospedaliera Alessandro Caltagirone, l'ASPE è unica. Ma quando il reparto di Gela, che ha solo otto posti in degenza, è pieno, i pazienti vengono trasferiti in altri ospedali che hanno la terapia intensiva covid e non si apre il reparto di Caltanissetta. Il Sant'Elia ha in piena attività il reparto di terapia intensiva ordinario, essendo AB di secondo livello. Il direttore generale ha anche spiegato come una delle ragioni della mancata apertura del reparto, non come dicono alcuni cittadini speranzosi perché non ci sono pazienti che necessitano di terapia intensiva, ma è il principio della compensazione e dello sbilanciamento, ovvero la compensazione quando un'ASPE è in difficoltà un'altra riceve i pazienti e quindi di conseguenza poi si può chiedere un ricovero fuori provincia e lo sbilanciamento, evitare che vi siano ASPE sovraccariche e ASPE meno. Resta la domanda, ma se il reparto può essere aperto in qualsiasi momento, come l'ingegnere Caltagirone ha sottolineato più volte dopo il nostro servizio, perché i pazienti vengono comunque trasferiti? Perché la risposta è semplice, antieconomico, aprire un reparto per un solo paziente, anche e soprattutto perché comunque ci si scontra con la carenza di organico. Ottanta è il numero degli infermieri che mancano, 37 assunti con procedura d'urgenza qualche giorno addietro, ancora troppo pochi per coprire gli organici. Al momento sono nove i pazienti della provincia ricoverati in altro presidio, dei quali tre sono nissani.